Quando la caduta dei capelli diventa eccessiva, in equilibrio l'85% dei capelli è in fase di crescita attiva e il 15% in fase di caduta. Il bulbo vive tre fasi, anagen crescita attiva, catagen rallentamento e telogen riposo. Ma numerosi fattori possono provocare la caduta precoce del capello. Dalla ricerca Bionike, Defense KS TricoCare, il sistema globale anticaduta dall'efficacia clinicamente testata, l'integratore alimentare potenzia le difese contro lo stress ossidativo, la lozione bioregola il ciclo del capello. Efficacia dimostrata, aumentano diametro e densità capillare. Capelli più folti nel 100% dei soggetti. Defense KS TricoCare, riaccende la crescita attiva dei capelli. Da Bionike, in farmacia e su bionike.it